Ciao a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati! Oggi andremo a fare un altro gameplay su Fortnite solo che oggi la particolarità, oggi lo facciamo proprio difficile oggi facciamo due obiettivi importanti ragazzi vabbè il primo è facile da fare perché basta volerlo il secondo diciamo è proprio una questione di culo diciamo quindi diciamo i primi due obiettivi ragazzi sono che ve li dico dopo esservi iscritti al canale attivate la campanellina, mettete la commentare fare tutte le cose che dovete fare sempre lo sapete già, lo sapete ragazzi, lo sapete quindi ragazzi stavamo dicendo che gli obiettivi di oggi saranno due il primo è quello di utilizzare una e una sola arma e come lo facciamo? Come lo scegliamo? Come scegliamo questa cosa? Lo facciamo con questo dado, vedete? Allora, il numero 1, se esce 1 utilizzo soltanto il piccone quello che ti danno all'inizio se esce 1 solo il piccone se esce 2 solo la pistola se esce 3 un fucile un fucile scrauso se esce 4 un fucile di quelli proprio di quelli grossi che invece ne sono un paio di fucili però raga se esce 5 o 6 si ritira ma beh ragazzi quindi vediamo vediamo cosa esce non mi fa guardare non mi fa guardare ok io prendo questa parte qua questa parte qua e la parte numero 4 oh ma andata di culo oggi ragazzi mi è andata di culo il fucile quello bello bello cazzuto quindi devo usare solo e soltanto il fucile cazzuto finché non lo prendo non posso usare armi quindi ragazzi secondo obiettivo quello di arrivare almeno nei top 3 come l'altra volta che era arrivato top era arrivato al secondo posto a culo questa volta arriviamo dobbiamo arrivare almeno nei top 3 ok ragazzi quindi abbiamo quante possibilità di gioco abbiamo due possibilità di gioco se no sto video dura un'infinità di tempo va bene ragazzi quindi iniziamo subito ehi ragazzi ci siamo ci siamo non posso ehi già mi stanno attaccando e che cazzo non posso usare nessun'arma non posso usare nessun'arma apposto questo è il fucile apposto non lo posso usare però va bene allora vediamo oh e lanciamoci pure noi andiamo a vedere sta a fattoria apposto non lo posso usare il coso già mi stanno a sparacqua e maron no non ci sta niente no non ci sta niente ecco già mi stanno a sparare e che è a posto oh si il fucilone ho un po' d'oro questo è proprio quello che ci vuole fucile pesante ah questo però fa solo due colpi fa vabbè dobbiamo usare solo il fucile più grosso che credo sia vediamo tra questo e questo boh non lo so vediamo a dritto andiamo da qua o da qua andiamo a dritto andiamo vediamo cosa ci riserva questo è il camion che non si può guidare ah ma la tempesta sta qua sta poi c'è qualcuno che mi sta a sparare ma non riesco a capire dove cazzo sta sto qualcuno mi sa che ho sbagliato strada mi sa che ho sbagliato strada che sto entrando proprio dentro alla tempesta mi sa che come entra una tempesta moro mi sa che devo uscire dalla tempesta il prima possibile ma che cazzo è che mi sta a sparare raga boh non si sa non si capisce andiamo al taxi andiamo taxi vabbè non si capisce non si capisce non si capisce non si capisce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo, 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 bravo. Sono proprio morto come uno stronzo, ventiquattresimo posto, raga, mamma mia. Certo, trovo delle armi che fanno cacare. Effettivamente il fucile non è l'arma delle migliori, diciamo. Ehm, vabbè, proviamo seconda volta, raga. Allora. Vediamo dove posso scendere. Tiè, già me butto, vai. Già mi è stata sparata addosso, raga, e che cazzo. Non ti è mai tempo di spiegare qualche arma, raga, madonna, come state? Guardate. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 No, è mo' so' cazzi tua mo'. No, cazzo stai. E vabbè ragazzi, oggi è finita così. Oggi è andata così ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo qua, a posto oggi. Non ce l'abbiamo fatta, quindi se sei tu che stai guardando sto video che mi ha ucciso, vaffanculo, ok? E vabbè ragazzi, quindi oggi è andata così ragazzi, è andata così. C'è andata bene per tre puntate, alla quarta c'è andata un po' di merda. E vabbè, e vabbè, e voi ragazzi scrivete qua sotto nei commenti in che posizione state su Fortnite, ragazzi. Se ci giocate, se vi piace sto gioco, o se volete semplicemente che cambi gioco, che magari faccio un altro gioco. Stavo pensando anche a Call of Duty, stavo pensando. Che ne dite ragazzi? Iscrivetevi qua sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, tempestate tutto sto video nei commenti. Noi ci vediamo ragazzi, al prossimo video. Shogari!